Ecco Fra Michele Sono la regina della pace, sono la vostra madre, sono venuta a dirvi che Dio esiste. Allora dobbiamo veramente aggrapparci al suo manto pieno d'amore per noi, non avere paura e pregare. La preghiera, ha detto la mamma celeste, fa miracoli nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. Il vostro gruppo di preghiera, allora vi ringraziamo per tutta la preghiera che state facendo ma anche perché avete detto sì alla chiamata di Maria. Vedete che ci vediamo presto, uniti sotto il suo manto qui a Međugorje per continuare quella missione di pace e di amore chiamati dalla Vergine Maria. Pace e bene a tutti. Ciao.